D'estate il ronzio degli insetti e il grido improvviso della ghandaia sono gli unici rumori che rompono in silenzio, d'inverno la quiete assoluta. Tuttavia ogni Eden ha il suo serpente e questo è talmente infestato dalle zanzare durante la stagione più adatta per i picnic che gli ospiti a cui ho pensato di farlo un piacere portandoli qui sono invece andati su tutte le furie, facendoli suonare dei loro lamenti queste spiagge solitamente tranquille. Le zanzare, insetti spregievoli e irritanti, sembrano non avere altra occupazione che sostare a miriedi sulla spiaggia in attesa delle prede che invia loro la provvidenza. Quando vedono arrivare la nostra carrozza si alzano in volo, una nube che si lancia all'attacco e ci viene addosso tirandoci quasi fuori dal veicolo e poi non ci lascia in pace finché non ripartiamo. L'improvviso apparire del mare dalla pineta, sull'altura tappezzata di muschia strapiombo sul punto dove facciamo il picnic, la meravigliosa distesa di spiaggia deserta con la pineta quasi lambita dalle onde, le vele varie opinte contro l'orizzonte blu, la freschezza, la luminosità, la vastità, tutto ciò sembra non esistere per la comitiva, anzi la continua necessità di dare battaglia alle orribili creature rende odioso il luogo a chiunque. È bello essere l'unica persona che ci mette piede o che lo fa conoscere a qualcuno, tuttavia se lo frequentasse più gente forse le zanzare sarebbero meno smagrite, fameliche e felici di vederci. Insomma, questo posto ha un grandissimo vantaggio, è un posto fantastico dove portare in gita gli ospiti appiccicosi quando si trattengono troppo a lungo oppure lasciano i miei libri esposti alla guazza notturna o comunque la loro presenza diventa un fordello insostenibile. In casi simili, quando la mattinata è bella torrida e tutti sono spossati, all'improvviso propongo un picnic sul Baltico. La mia proposta è sempre stata accolta da esclamazioni di sorprese e gridolini di gioia. Il Baltico non ci ha mai detto che è vicino e ci si può andare in carrozza. Che esperienza paradisiaca poter respirare fresca aria di mare in una giornata come questa. Al solito pensiero ci si sente rinascere. Che meraviglia potrà vedere il Baltico. Oh la prego ci porti lì. Allora li ha contento. Ma in una luminosa giornata d'inverno come quella di ieri, la mia coscienza è limpida come l'aria pungente. Siamo partite di ottimo amore. Minora scoppiava ridere per qualsiasi sciocchezza ed eravamo talmente imbaccuccate nelle pellicce e nelle sciarpe di lana necessarie all'integrità di nasi e orecchie che solo gli occhi non erano coperti e per le prime due miglia abbiamo riso come pazze dell'assurdità del nostro aspetto. Parlo di questo solo per sottolineare l'effetto che produce il freddo secco, luminoso e intenso su dei corpi sani e quanto sia preferibile uscire a goderselo piuttosto che rimanere chiusi in casa con il muso lungo. Mentre attraversavamo il villaggio tra schiocchi di fruste e tintinari di campanelli, alle finestre spuntavano teste curiose e l'unico essere vivente in giro sul bordo della strada silenziosa e assolata era un pollo malinconico dalle fiume arruffate che ci ha guardato con aria di biasimo per l'energia con cui sfreccevamo sulla neve scricchiolante. Oh, stupido volatile, ha gridato i re mentre passavamo. Se rimani l'immobile presto sarai un pollo in gelatina e non arrosto come ti preferiamo in questa stagione. Questa battuta ci ha fatto sganasciare dalle risate, neanche fosse la barzelletta più divertente del mondo e abbiamo continuato a ridere fin dopo che ci siamo lasciate il villaggio alle spalle e siamo arrivate in aperta campagna dove si vedevano la casa e il giardino ben distinti che scintillavano nel sole. Davanti a noi si ergeva la foresta con le sue schiere infinite di pigna perdita d'occhio, le 14 miglia che mancavano prima di arrivare al mare. Era una giornata bianca di brina in una foresta incantata che sembrava condurre al paese delle fate e sebbene il re e io l'avessimo già attraversata in molte occasioni, meravigliandoci in volta della sua bellezza, ieri ci siamo fermate sotto l'unica arcata di rami ornati di brina, ammutolite di fronte a tanta pura leggiadria, alla vista del mare ghiacciato, con una linea blu scura all'orizzonte interrotta da un gruppo di vele arancioni immobili. La sabbia era una sottile striscia giallo palido, a destra e a sinistra la foresta scintillante e noi eravamo in un mondo di bianchi e rabeschi cristallini. Da quel luogo tranquillo emanava la sacralità di una domenica infinita. Minora ha rotto il silenzio osservando che Dresda era carina, ma questo posto forse lo era altrettanto. Proprio non capisco come si possono paragonare le due cose, ha detto i re in un sussurro, quasi si ritrovasse in un luogo sacro. Beh, ovviamente Dresda è più comoda, ha replicato Minora. A quel punto abbiamo pensato di tenerla buona dandole da mangiare, perciò siamo tornate alla slitta, abbiamo fatto staccare e coprire i cavalli e mentre loro passeggiavano in un'area dura distante siamo risalite e ci siamo rifucillate. Per i cavalli è stata sicuramente una giornata faticosa, quasi 30 miglia tra andate e ritorno senza nemmeno una stazione di posta, ma sono bestie talmente grasse e viziate che ogni tanto non gli fa male assaggiare la sprezza della vita. Ho scaldato il brodo con un forniletto che uso in occasioni come questa, per contrastare l'effetto dei panini freddi. Sì, l'unico aspetto spregievole di un picnic invernale è il cibo che diventa umidiccio proprio nel momento in cui desidereresti un pasto caldo e fumante. Con circospezione Minora ha fatto emergere il naso dalle sciarpe, ha dato un morso al panino e si è subito ricoperta. Teme che il freddo le congele il naso e in verità devo ammettere che non ce l'ha per niente brutto, anzi sul viso di un'altra potrebbe persino dirsi grazioso. Peccato che lei non lo porti bene. Infatti, come in tutte le altre cose della vita, c'è un'arte anche nel saperlo mostrare dalla giusta angolazione e di certo il naso non è stato creato soltanto per essere soffiato. Mangiare i panini tenendoli con ingombranti guanti di pellicce di lana è cosa difficilissima e credo che abbiamo inghiutito tanto pelo quanto pane, a tratti rischiando di soffocare. Minora era furiosa al punto che si è sfilata un guanto ma poi ha dovuto rimetterselo subito. Ah, ma che schifo! ha detto dopo aver ingoiato un grosso ciuffo di pelliccia. Beh, almeno lettera caldo alle budella, ha commentato il re. Budella? ha esclamato Minora oltremodo disgustata da una tale volgarità. Mi spiace ma non posso aiutarla, ho detto vedendo che continuava a tossire e sputacchiare. Siamo tutte sulla stessa barca e non so come rimediare. Esistono le forchette, direi, è sbottata Minora. L'ovietà della soluzione mi ha disarmata. Sì, è vero, ho ammesso. Ma in fondo a cosa servono le forchette se si trovano a 15 miglia da qui? Perciò Minora ha dovuto continuare a mangiarsi anche i guanti. Quando abbiamo finito il sole era ormai basso oltre agli alberi e le nuvole si tingevano di un rosa delicato. L'anziano cocchiere ha avuto la sua razione di panini e brodo mentre faceva passeggiare i cavalli tenendo le redini con una mano, con l'altra reggeva il suo pranzo. Nel frattempo abbiamo sparecchiato, o per essere precisi, io ho riordinato, mentre le altre stavano a guardare ed elargivano preziosi consigli. Questo cocchiere, detto Peter, ha 70 anni ed è del luogo. Da 50 anni porta spassi proprietari della tenuta e io gli voglio bene quasi quanto alla meridiana. Infatti non so come farei senza di lui, tanto sembra capire approvare i miei gusti e i miei desideri. Non c'è tragitto troppo lungo e impegnativo per i cavalli, né luogo impossibile da raggiungere, né clima verso strade dissestate che possono impedirmi di partire in carrozza se ne ho voglia. A qualsiasi mia proposta lui risponde con una cordiale prontezza e riesce sempre a neutralizzare le obiezioni sollevate dall'uomo della colera il quale, invece, punisce la sua lacrità definendolo un vecchio somaro. Nelle belle sere d'estate adoro uscire in calesse e andarmene da sola per i boschi profumati, trattenendomi fino a tardi. Quando arrivo in un luogo più buio, mi fermo e rimango immobile ad ascoltare gli usignoli che cantano la loro melodia, interrompendosi ogni volta per coccolare. Se non ci sono gli usignoli, ascolto il meraviglioso silenzio della notte e mi lasci inondare l'anima della beatitudine. Da queste parti, gli usignoli cantano tutti la stessa melodia in mi bemolle. Non so se tutti gli usignoli del mondo cantino così o se sia una peculiarità di questi luoghi. Cantano la loro melodia una volta, poi si scariscono un pochino la voce, esitano e ricominciano. È la canzoncina più graziosa che esista. Come potrei concedermi le passeggiate notturne in calesse che amo tanto se non ci fosse Peter. Conosce talmente bene i miei desideri che adesso si ferma al momento giusto senza che debba dirglielo. E se lo volessi mi porterebbe in giro per tutta la notte senza scomporsi, anzi tutto allegro e volenteroso, con un bel sorriso sul suo volto segnato dal tempo. L'uomo della collera critica aspramente i miei gusti eccentrici, come li definisce, ma ha desistito dall'ostacolarmi, perché mentre lui si trovi in una certa parte della casa, occupato a condannarmi, io sono già scusciata via dalla parte opposta e prima che si accorga che sono scomparsa, ho fatto in tempo ad arrivare nel fitto della foresta, dove mi sto godendo l'oscurità. Tuttavia, nella immacolata perfezione di Peter, c'è un difetto causato dall'età che avanza. Non riesce più a dominare i cavalli se loro non vogliono lasciarsi guidare e se gli chiedo di portarmi da qualche parte subito dopo pranzo, lui a volte si addormenta a cassetta. Inoltre, mi ha fatto cadere due volte, lo scorso inverno dalla slitta, quest'estate dalla carrozza, quando i cavalli si sono spaventati davanti a una bicicletta e sono finiti nel fosso da un lato della chassé, in tedesco significa strada maestra, mentre il povero ciclista si è a sua volta spaventato dai cavalli terrorizzati ed è finito anche lui nel fosso, ma dall'altra parte. La carrozza si è sfasciata, la bici si è sfasciata e ci siamo rimasti tutti malissimo, tranne Peter. Lui non ha mai perso il suo bel sorriso ed è rimasto talmente tranquillo che non sono riuscita neppure a rimproverarlo perché la lingua mi si è rappiccicata al palato. Secondo me in quell'occasione una bella lavata di capo ci stava però, ha commentato Minora dopo aver sentito la storia, mentre passeggiavamo sulla sabbia gialla in attesa che i cavalli venissero attaccati alla salita. Con un certo nervosismo ha guardato il buon Peter, che si intravedeva oltre i cespugli sopra di noi. Ce la faremo tornare a casa prima che faccia buio? Il sole era ormai scomparso oltre i pini e soltanto le nuvolette più in alto erano ancora soffuse di rosa. Stanchi di nebbia si avvicinavano silenziosi dal largo e le vele dei pescherecci avevano preso una cupa tinta bruna, uno stormo di anatre selvati che è passato davanti al disco lunare lanciando alte grida. Prima del buio? Le ha fatto eco il re. Non credo davvero, già adesso è praticamente notte nella foresta e al ritorno viaggeremo con un chiaro di luna meraviglioso. Secondo me è rischiosissimo avere un cocchiere che si addormente alla guida. Minora era preoccupata. Ma un vecchietto tanto caro, ho replicato. Certo, certo, senza dubbio, si è affrettata a ribattere, ma esistono pure cocchieri anziani che riescono a stare svegli e sarebbe meglio che a Cassetta ci fosse uno di loro. Il re è scoppiata a ridere. Miss Minora sta diventando davvero divertente. Per oggi non sta a Cassetta e non è mai successo che non si addormentasse in piedi mentre guida la slitta, ho commentato. A queste parole Minora non si è certo placata, anzi ha borbottato qualcosa di scortese riguardo a certi comportamenti temerari che non la divertono per nulla, segno evidente che era davvero in ansia. Tuttavia Peter si è comportato benissimo e perlomeno il re e io ci siamo divertiti un sacco sulla via del ritorno. A occidente il cielo sfogherava a tratti in tutta la sua gloria in fondo al lungo viale mentre sfrecciavamo veloci. Più tardi miriadi di stelle nella stretta striscia di cielo sopra le nostre teste hanno preso il posto dei gloriosi bagliori del tramonto. Il freddo era pungente e Minora non diceva una parola priva della voglia di ridere che la pervadeva sei ore prima. «Allora si è divertita signorina Minora?» ha chiesto il re quando siamo usciti dalla foresta per imboccare la chaussée. Le luci del villaggio scintilavano davanti a noi. «Quanti gradi ci saranno in questo momento?» è stata la risposta di Minora. «Gradi sotto zero? Oh, signor caro, non mi dica che ha freddo!» ha esclamato il re premurosa. «Beh, non è proprio quel gran caldo, no?» ha replicato Minora imbronciata. Il re mi ha dato un pizzicotto e ha detto «Eppure pensi al freddo che avrebbe patito se non avessi mangiato tutta quella pelliccia per pranzo». «E pensi poi al bel capitolo che scriverà riguardo al Baltico!» ho aggiunto. Addirittura oserei dire che lei è la prima inglese che abbia mai visitato questa parte del Baltico. «Non c'era una poesia inglese che parlava del primo uomo che varcava i limiti», ha detto il re. «Di quell'oceano silente», si è affrettata a completare Minora. «Non può citarlo fuori dal suo contesto, lo sa, è vero?» «Non ne avevo la minima intenzione», ha replicato il re docile. «Mi sono solo fermata per respirare. Se smetto di respirare potrei morire, credo». «Abbiamo visto le luci splendenti dello scloss della mia energica vicina, quella che mi ha regalato il vaso di fiori mentre con la slitta passavamo i piedi della collina su cui sorge. Lei va giustamente fiera della sua collina perché è l'unica in tutto il circondario». Minora ha indicato il castello con un cenno brusco della testa. «Ci va qualche volta?» «Girado, se ci andassi più spesso mi sembrerebbe di disturbarla, è sempre molto occupata. Sarebbe interessante per me vedere l'interno di un'altra casa del nord della Germania e le sarei molto grata se mi ci portasse». «Non posso certo piombarle tra capo e collo come una sconosciuta, ho argomentato. Non siamo tanti in confidenza da potermi presentare da lei con tutti i miei ospiti». «A che le serve vedere un altro interno?» è intervenuta il re. «Le dico io com'è quella casa. Se ci andasse nessuno parlerebbe con lei. Se prendesse appunti la signora la fisserebbe sbalordita pensando che Elisabeth ha portato a spasso una giovane folle. Non tutti hanno la pazienza di Elisabeth». E con queste parole il re si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. «Per lei, mi sminora, farei qualsiasi cosa, ma questo non rientra proprio nelle mie possibilità», ho concluso. «Se ci presentassimo allo sclos», ha proseguito il re, «la padrona, tra mille cerimonie, farebbe accomodare Elisabeth e me sul divano, mentre lei, signorina, verrebbe invitata a sedersi su una delle quattro tozze gonfie poltroncine rosse». «Sono rosse, vero Elisabeth? Tempestate di nappine che stanno di fronte al divano, con in mezzo un immenso tavolo ovale lucidato a cera e urnato da un centrino all'uncinetto». «Ce l'ha il centrino, vero?» Ho annuito entrambe le domande. «Il pavimento è verniciato di giallo e de nudo, tranne che per il tappetino davanti al divano». «La carta da parati è color cioccolato scuro, quasi nero, così non si nota la sporcizia accumulata negli anni e si evita di doverla cambiare troppo spesso». «La sporcizia è come la malvagità, non è importante che ci sia, ma se si vede troppo, ce ne vergogniamo». «Lungo le alte pareti si alternano con regolarità serie vetrinette con sopra una lampada. In un angolo c'è una grande stufa di ceramica sempre spenta. È bianca o decorata?» ha chiesto voltandosi verso di me. «È bianca?» Poi ci sono tante grandi finestre, molto belle, fatte apposta per lasciare entrare l'aria e il sole, ma sempre accuratamente schermate con doppie tende di pizzo marrone di stoffa pesante, come se di fronte ci fossero file di case piene di gente curiosa dietro i vetri. Invece tutto intorno allo scloss ci sono solo campi, alberi e uccellini. «Niente camino, mai un raggio di sole, neanche un libro un fiore, bensì un confortante odore di cavolo rosso che viene da sotto le porte e che, a seconda della stagione, si mescola con quello della saponata». «Quando c'è stata?» ha chiesto Minora. «Ah già! Quando è che ci sono stata?» «Piuttosto, quando è che non ci sono andata, visto che frequento quella casa da sempre?» Minora, imbaccoccata nelle sciarpe, mi ha guardato dubbiosa, poi ha osservato i re. «A grandi occhi e con lunghe ciglia scure, devo ammettere che i presi singolarmente sono belli. Il problema è che sono posizionati in modo sbagliato. Da quella visita imparerebbe soltanto che in Germania ogni angolo del divano ha il suo significato. Se noi tre andassimo lei insieme, io verrei fatta accomodare all'estremità destra, il posto d'onore, perché sono la forestiera più importante. A Elizabeth spetterebbe l'estremità sinistra, seconda come prestigio, la nostra ospite si sederebbe sulla poltrona più vicina a noi e lei, Minora, persona priva di importanza, dovrebbe sedersi o dove capita o su una sede di fronte a noi dall'altra parte del tavolo, per sottolineare l'immenso abisso sociale che separa le donne sposate da quelle illibate. Gli angoli dei divani permettono quindi di operare squisite distinzioni sociali in un mondo altrimenti impossibile. Potrebbe pure cascare il mondo, ma se per caso lei, Minora, si sedesse sul lato destro, quello sì che farebbe scalpore. Il fatto che venga sistemata sulla sede dall'altro lato del tavolo la pone immediatamente su un gradino preciso della scala delle precedenze, definendo la sua posizione sociale o piuttosto la sua assoluta mancanza di tale posizione. A questo punto il re ha sollevato il mento con un gesto quasi impercettibile. Ne prenda nota come titolo del suo prossimo capitolo. «Prendere nota di cosa?» ha chiesto Minora impaziente. «Perbacco!» Scriva. «Il sottile significato dei sofà. Mi sembra evidente», ha replicato il re. Poi, vedendo che Minora non sembrava apprezzare il suggerimento, ha proseguito. Se invece dovesse presentarsi allo scloss, senza aver annunciato il suo arrivo, la sfortuna che perseguita gli innocenti la farebbe incappare proprio nel giorno del bucato, quando la padrona di casa, operata di lavoro, la lascerebbe aspettare in una stanza fredda finché non si è cambiata d'abito. Sola, là dentro, comincerebbe a temere la morte per fame e stenti. Dopo bel po', la padrona apparirebbe con il suo sorrisetto acido e le farebbe capire quanta rabbia le ribolle dentro. «Ma che cosa ha a che fare la padrona di casa con il bucato?» «Che cosa ha a che fare con il bucato?» «Oh, dolce beata innocenza!» «Mi perdoni la confidenza, ma una tale ignoranza degli usi delle nostre campagne è davvero toccante in una persona che ci sta scrivendo sopra un libro». «Ah, ma io so benissimo di essere ignorante!» Ha replicato Minora Altezzosa. I giorni di bucato sono sacri e inviolabili per la housefrau. Capitano ogni due o tre mesi e sconvolgono l'equilibrio della casa. Non esistono altre priorità. Marito e figli passano in secondo piano. Nessuno può avvicinarsi alla padrona di casa né interferire con lei durante quei giorni di purificazione se non vuole pagarne le conseguenze. «Non vorrà dirmi che lavate i vestiti soltanto quattro volte l'anno!» «Sì, le sto dicendo proprio questo!» «Beh, penso che sia sommamente disgustoso!» ha esclamato Minora. Il re ha inarcato le sue graziose e delicate sopracciglia. «Allora va di bene a non sposare un tedesco?» «Ma lo scopo di tutto questo quale sarebbe?» «Ma credo che sia lavare la biancheria, no?» «Certo, certo! Ma perché lasciate passare tanto tempo tra un bucato e l'altro?» «Perché dare a vedere che si possiede molte biancherie è un segno esteriore palese di opulenza. Se lavassimo i vestiti ogni settimana come fate voi in Inghilterra, dimostreremo al mondo che possediamo solo il necessario per andare avanti una settimana e saremo getto di disprezzo universale. Ma sarei comunque un individuo pulito e la mia casa non sarei piena di sporcizia accumulata!» ha protestato Minora alzando la voce. «Non abbiamo commentato! Non c'era nulla da dire!» «Deve essere una terra felice!» la sua cara Inghilterra ha osservato il re sospirando. «Probabilmente immaginava un luogo pieno di lavandaie e agili genti uomini che si precipitavano ad aprire porte. Se non altro è un luogo pulito!» ha commentato Minora. «Io non ci vivrei mai!» ho detto, ricordando la nebbia e gli ombrelli dell'ultima volta che ci sono andata. Ormai eravamo vicini, non lontano dalla facciata ovest della casa della mia amata antica dimora, il luogo dove voglio vivere e morire e ho sentito che al mondo non c'era donna altrettanto felice della sottoscritta. 18 aprile Da quando i re i Minora se ne sono andate ho avuto talmente tanto da fare che l'arrivo della primavera mi ha colto di sorpresa. Il giardino sembra correrle incontro in sottoveste. Il sottobosco è tutto un ferire di teneri petali, germogli e foglioline, ma i rami degli alberi sono ancora spogli. Febbraio è passato prima che mi rendessi conto del suo inizio. Tanto ero indaffarata con i semenzai in cui ho fatto seminare petugne, verbena e nicotiana finis. Quest'anno ho deciso di dedicare non meno di 30 semenzai agli ortaggi, dopo essermi resa conto che anche questi sono interessanti da coltivare, ricchi come sono di concrete virtù non concesse i fiori. Insomma ho pensato che potrei occuparmi anche del frutteto e dell'orto e mi sono lanciata nell'impresa con lo zelo dell'inesperienza, passando serate intera a studiare i libri di giardinaggio e giornate a mettere in pratica le nozioni appena apprese. Chi ha detto che febbraio in campagna è un mese noioso, triste e lento? Qui da me è trascorso allegro e spedito e con le sue giornate miti mi ha permesso di portarmi avanti senza intoppi con i lavori di vangatura e concimazione. Per non parlare dei bucaneve che ho messo in ogni stanza. Più passa il tempo e più crescono il mio rispetto e il mio amore per il concimino ogni sua forma e già adesso, l'anno è cominciato da poco, ho speso buona parte del mio argent de poche per procurarmi del concime minerale. L'uomo della collera sostiene di non aver mai incontrato una giovane donna che spendesse somme tanto cospicue per acquistare concime. Io ho replicato che non deve essere male avere una moglie originale, al che lui ha ribattuto che è originale, mi descrive in minima parte che la parola giusta sarebbe eccentrica. Benissimo, se lo dice persino mio marito immagino di esserlo veramente, ma se le mie eccentricità sono di natura così pratica da produrre cavolfiore gigante e lattuga tenerissima in un orto prussiano, allora dovrebbe essere il minimo ad ammettere che sono una benedizione del cielo. Ho fatto venire dall'Inghilterra semi di zucchine che qui non si trovano, da queste parti mangiano i cetrioli lessi invece delle zucchine, ma il risultato è ignobile e poi non vedo perché da noi le zucchine non dovrebbero crescere bene. Un altro contributo dell'Inghilterra al mio giardino sono le radici di primula, che ho portato qui in una scatola di latta l'ultima volta che ci sono andata. Sono ansiosa di vedere se si ambienteranno, di sicuro da queste parti non esistono, per cui ne deduco che i rigori invernali le uccidono, altrimenti carine come sono non sarebbero passate inosservate. Il re è molto interessata all'esperimento perché legge così tanti libri inglesi e ha sentito talmente tanto parlare delle primole che nella sua immaginazione fanno tutt'uno con le leghe, le dame ed israeli e adesso muore dalla voglia di vedere questi misteriosi fiori politici. Mi ha persino fatto promettere che appena spuntano le manderò un telegramma e lei si precipiterà qui. Tuttavia pare che quest'anno non abbiano intenzione di combinare nulla e spero soltanto che i giorni freddi di gennaio non le abbiano mandate nel paradiso dei fiori. Mi sa tanto che il loro impatto con la Germania è stato raggelante. Il re mi iscrive circa una volta alla settimana per chiedermi del giardino delle bambine per annunciare che presto tornerà, non appena la folla di parenti che hai in casa avrà levato le tende, cosa che accadrà soltanto, ha scritto qualche giorno fa, quando le prime gelate li faranno sparire come daglie tardive che si seccano per il freddo. Daglie doppie, non semplici, perché quelle semplici sono troppo belle per essere paragonate ai parenti. Per casa ho ogni sorta di cugino, zio e zia che stazionano qui sin dal compleanno di mio marito, non sempre gli stessi certo, ma ormai ho una tale confusione in testa che non so più distinguere l'uno dall'altro. Mio marito dopo colazione dice che esce per dare un'occhiata ai campi e io rimango alla merce del parentado. Vorrei tanto avere anch'io dei campi da controllare, me ne basterebbe anche uno solo e piuttosto che restare a casa a farmi propinare la verità da zia oracolo, starei a osservare il mio campo dalla mattina alla sera. Lo fisserei tanto da metterlo in imbarazzo. Conosciti a Berta, lei è quella che passa tutto il tempo a sottopormi oscuri i quesiti e alla fine della giornata sono sfinita dallo sforzo di indovinare le risposte, in genere parabole che lei suppone mi faccia bene ascoltare. Perché porti i capelli sulla fronte? Chiede e io comincio ad arrovellarmi sul significato della mia pettinatura e sulla ragione della sua curiosità. Oppure mi domando se lei non sappia già il motivo e voglia solo mettere alla prova la mia sincerità. Non saprei zia. Rispondo docilmente dopo un'eternità di riflessioni e considerazioni. Forse la mia cameriera lo sa. Vuoi che la chiami e glielo chieda? A questo punto lei mi informa che lo faccio per nascondere una brutta ruga al centro della fronte che rivela un carattere apatico e insoddisfatto. Insomma, se lo sapeva perché mai me l'ha chiesto? Quando siamo insieme i parenti mi sottopongono enigmi del genere e mi fanno fare una vita da cari. I parenti, mia cara, sono come le spezie, utili e persino piacevoli a volte se presi di rado e a piccole dosi, ma nel complesso tremendamente perniciosi, tanto che le persone veramente sagge li evitano. Ho avuto notizie di Minora solo una volta da quando è partita. Mi ha scritto ringraziandomi per la piacevole visita e promettendo di inviarmi una bottiglia di linimento inglese da applicare su lividi dopo ogni giro sui pattini. Ne parla come di un rimedio portentoso ed è sicura che mi piacerà. Dice che costa due marchi e mi chiede di spedire dei francobolli. Ho riflettuto a lungo domandandomi se fosse un'ultima frecciatina per vendicarsi delle nostre beffe. Ha forse un interesse di tipo commerciale a vendermi l'inimento? Oppure soltanto ciò che lei considera un modo carino di contraccamminare la mia ospitalità? In realtà, nessuno che pattini decentemente considera lividi una conseguenza inevitabile di tale attività e comunque l'unica cadere era proprio Minora. Io sono caduta solo una volta e in quel momento, per combinazioni, Minora si è voltata e mi ha visto. Ho notato che la gioia che provava al vedermi capitombolare era appena velata da una sollecitudine e una premura eccessiva. Le ho spedito i francobolli, la bottiglia è arrivata e ho deciso di escluderla dalla mia vita. Sono stata una buona samaritana nei suoi confronti perché me l'aveva chiesto un'amica, ma persino la samaritana più comprensiva si offende se le regalano dell'inimento per i suoi ipotetici acciacchi. E comunque, perché spercare un pensiero per Minora a Pasqua, il vero inizio dell'anno che che ne dica il calendario? Lei appartiene all'inverno ormai finito, alle tenebre ormai scomparse e non alcuna parte nella vita che condurrà nei prossimi sei mesi. Oh, l'arrivo della primavera mi fa venire voglia di cantare e ballare per la felicità. Che risurrezione di bellezza nel mio giardino e quanta speranza nel mio cuore. Ho trascorsa l'aria aperta tutta questa radiosa giornata di Pasqua, seduta tra gli anemoni e le celidonie e poi passeggiando con le bambine in Irschwald per ammirare la primavera all'opera nel bosco. Il pomeriggio è stato talmente caldo che siamo rimaste sdraiate nell'erba a guardare le soffici gonfie candide nuvole fruttanti nel blu, tra i rami spogli e delle betulle bianche. Abbiamo preso il tè sul prato al sole, poi, quando si è fatto tardi e le bimbe erano ormai a letto e i calici degli anemoni erano chiusi, ho continuato a passeggiare lungo i sentieri erbosi con il cuore colmo di gratitudine. Tanta abbondanza di bellezza e di perfezione allargita a tutti senza distinzioni mi ha fatto sentire umile e ho pensato a quanto siano infinitamente meschine le nostre riluttanti elemosine e quanto rimaniamo contrariati se non riceviamo un pronto e adeguato ringraziamento. Ho fiducia di poter meritare sempre più la benedizione che raccolga tene mani nel mio giardino e spero di crescere in grazia, pazienza e allegria, proprio come i fiori felici che amo così tanto. Fine